sulla spiaggia s'infrange l'onda nebulosa e i soli gemelli tramontano nel lago le ombre s'allungano a carcosa ardono stelle nere la notte è misteriosa là dove strane lune s'aggirano nei cieli ma ben presto più strana è la persa carcosa le ladi canteranno l'armonia melodiosa ma dove sventolano i cenci del re morrà inascoltata nell'oscura carcosa canto dell'anima mia la mia voce è spenta anche tu muori mai nato come una lacrima mai pianta s'asciuga e muore nella persa carcosa il canto di cassilda il re in giallo atto primo scena seconda contenuto ad una lettera non firmata inviata all'autore vi sono tante cose che è impossibile spiegare perché certi accordi musicali mi fanno pensare alle tinte marroni e dorate delle foglie d'autunno perché la messa di santa cecilia spinge ai miei pensieri a vagare fra grotte le cui pareti fiammezzano di masse irregolari d'argento vergine che cosa c'era nel frastuolo e nel caos di Broadway alle sei che faceva balenare davanti ai miei occhi l'immagine di un'immota foresta bretone dove la luce del sole filtrava tra le fronde primaveridi e Silvia si chinava un po' incuriosita un po' intenerita su di una lucertolina verde mormorando e pensare che anche questa è una creatura di Dio quando lo vidi per la prima volta il guardiano mi voltava le spalle lo segui con lo sguardo indifferente finché entro in chiesa non gli prestai più attenzione di quanta ne prestassi a qualunque altro uomo che passasse per Washington Square quella mattina e quando chiusi la finestra e mi girai nello studio lo avevo già dimenticato più tardi nel pomeriggio poiché era una giornata calda alzai di nuovo il vetro della finestra e mi affacciai per prendere una boccata d'aria nel cimitero della chiesa c'era un uomo e io lo notai di nuovo un scarso interesse come era accaduto la mattina guardai attraverso la piazza il gioco d'acqua della fontana e poi con la mente piena di vaghe impressioni d'alberi, di asfalto di gruppi in movimento, di bambinaie e di gente a passeggio in un giorno di festa mi avviai per tornare al cavalletto quando mi voltai il mio sguardo indifferente colse anche l'uomo laggiù nel campo santo il suo viso adesso era rivolto nella mia direzione e con moto assolutamente involontario mi piegai per osservarlo nello stesso momento l'uomo alzò la testa e guardò me pensai immediatamente a un verme in una vara non so cosa vi fosse in quel uomo che mi ispirava tanta repulsione ma l'impressione di un grasso verme bianco d'una tomba era così intensa e nauseante che dovetti tradirla nella mia espressione poiché egli distorse la faccia gonfia con un movimento che mi fece pensare a un bruco disturbato in una castagna tornai al cavalletto e accennai alla modella di rimettersi in posa dopo aver lavorato per qualche tempo mi resi conto che stavo rovinando ciò che avevo fatto e prese un raschetto per rimuovere il colore le tonalità della carne erano cupe, malsane e non capivo come avessi potuto inserire un colore tanto nauseabondo in uno studio che poco prima rifulgeva di toni irradiosi guardai tessi non era affatto cambiata e il rosa vivace della buona salute le tingeva il collo e le guance mentre io aggrottavo la fronte ho fatto qualcosa di male disse lei no, ho fatto un pasticcio con questo braccio e non so proprio come ho potuto mettere questo colore fangoso sulla tela risposi non ho posato bene insistete lei perfettamente allora non è stata colpa mia no, mia mi dispiace moltissimo disse lei le dissi che poteva riposarsi mentre io usavo straccio e trementina per togliere la chiazza immonda dalla tela e lei se ne andò a fumare una sigaretta e a guardare l'illustrazione d'Hercurie François non so se ci fosse qualcosa nella trementina o se fosse un difetto della tela ma più ripulivo e più quella cancrena sembrava espandersi lavorai con l'impegno di un castoro per toglierla eppure quel morbo pareva estendersi da un arto all'altro allarmato mi sforzai di arrestarlo ma già il colore del seno cambiava e l'intera figura pareva assorbire l'infezione come una spugna assorbe l'acqua usai di nuovo energicamente il draschietto la trementina pensando alla scenata che avrei fatto a Gival il quale mi aveva venduto la tela ma ben presto mi resi conto che il difetto non stava nella tela e neppure nei colori di Edward deve essere la trementina pensai irritato oppure i miei occhi sono così abbagliati e confusi a causa della luce del pomeriggio che non riesco a vedere bene chiamai Tessy la modella e gli arrivò e si piegò sulla mia sedia soffiando nell'aria cerchi di fumo che cosa gli ha fatto? esclamò niente grugnì deve essere la trementina che colore orribile ha adesso? continuò lei pensa davvero che la mia carnagione sembra gorgonzola? no feci rabbiosamente mi hai mai visto dipingere così prima d'ora? no davvero e dunque? deve essere la trementina o qualcos'altro? ammise lei si infilò un kimono giapponese e si avvicinò alla finestra io grattai e raschiai fino a quando mi sentii stanco alla fine raccolsi i pennelli e li scagliai contro la tela con un'esclamazione risentita della quale soltanto il tono giunse fino alle orecchie di Tessy lei comunque cominciò prontamente ma bene bestemmi si comporti da sciocco e rovini i pennelli ha dedicato tre settimane a quello studio e lo guardi adesso a che serve strappare la tela? che razza di tipi sono gli artisti? io mi vergognavo come mi capitava di solito dopo esplosioni di quel genere e girai verso il muro la tela rovinata Tessy mi aiutò a pulire pennelli poi si allontanò a passo di danza per vestirsi mentre era dietro il paravento mi lanciò consigli frammentari a proposito dell'abitudine di perdere la calma finché convinta di avermi tormentato a sufficienza uscì pregandomi di abbottonarla alla cintura sulla schiena dove non poteva arrivare da sola è andato tutto storto dal momento che si è allontanato dalla finestra e ha cominciato a parlare di quell'uomo orribile che ha visto nel campo santo dichiarò sì probabilmente è stato lui a stregare il quadro dissi sbadigliando ti eri un'occhiata all'orologio sono le sei passate lo so fece Tessy aggiustandosi il cappellino davanti allo specchio sì risposi non intendevo trattenerti così a lungo mi affacciai alla finestra ma indietreggiai pieno di disgusto perché l'uomo dal volto pastoso era là sotto nel campo santo Tessy vide il mio gesto di disapprovazione e si sporse dalla finestra è quello l'uomo che non le va bisbigliò a noi non riesco a vederlo in faccia ma mi sembra grasso e flaccido non so perché continuò girandosi verso di me mi ricorda un sogno un sogno spaventoso che ho fatto una volta ma chissà fece pensosa abbassando lo sguardo sulle sue scarpette eleganti chissà se era davvero un sogno come posso saperlo io sorrisi Tessy sorrisi a sua volta c'era anche lei disse quindi forse può saperne qualcosa Tessy Tessy protestai non cercare di lusingarmi dicendo che sogni di me ma è vero insistete lei vuole che le racconti racconta disposi accendendo una sigaretta Tessy si appoggiò al davanzale della finestra aperta e cominciò a parlare con aria molto seria una notte l'inverno scorso ero a letto e non pensavo a niente di particolare avevo apposato per lei ed ero stanchissima eppure mi sembrava che non sarei mai riuscita ad addormentarmi senti le campane della città suonare le dieci le undici poi mezzanotte dovetti addormentarmi dopo mezzanotte perché non ricordo di avere più sentito le campane mi pareva di avere appena chiuso gli occhi quando ho sognato che qualcosa mi costringeva ad andare alla finestra mi sono alzata ho girato la maniglia e ho guardato fuori la venticinquesima strada era deserta a quanto potevo vedere ho cominciato ad avere paura tutto là fuori sembrava così così nero e inquieto poi mi è giunto all'orecchio un rumore lontano di ruote ho avuto l'impressione che fosse quello che stavo aspettando lentamente il rumore si è avvicinato e alla fine sono riuscito a distinguere un veicolo che avanzava sulla strada e si faceva più vicino quando è passato sotto la finestra ho visto che era un carro funebre poi mentre tremavo per la paura il conducente si è voltato e mi ha guardata quando mi sono svegliata ero in piedi accanto alla finestra aperta era brevidivo ma il carro funebre impennacchiato di nero e il suo conducente erano spariti ieri notte ho fatto ancora lo stesso sogno si ricorda come pioveva quando mi sono svegliata in piedi davanti alla finestra aperta la mia camicia da notte era bagnata fradicia ma io che centro in quel sogno domandai lei lei era nella bara ma non era morto nella bara sì e tu come lo sapevi mi hai visto no sapevo soltanto che c'era avevi mangiato crostini al formaggio fuso o insalata ad ragosta cominciai a ridere ma la ragazza mi interruppe con un grido spaventato ehi cosa succede dissi mentre lei si ritraeva di scatto dal davanzale della finestra l'uomo quell'uomo laggiù nel camposanto era lui che guidava il carro funebre che sciocchezza disse io ma gli occhi di tessi erano sbarrati per il terrore mi accostai alla finestra e guardai fuori l'uomo se n'era andato su via tessi le sortai non fare la sciocca hai posato per troppo tempo sei nervosa crede che potrei dimenticare quella faccia mormorò per tre volte ho visto il carro funebre passare sotto la mia finestra e ogni volta il conducente si è girato a guardarmi aveva la faccia così bianca e molle sembrava morto sembrava morto da tanto tempo la convinse a sedersi e a buttar giù un bicchiere di marsale poi sedetti accanto a lei e cercai di darle qualche consiglio stammi a sentire tessi freci devi andare in campagna per una settimana o due e non sognerai più carri funebri posi per tutto il giorno e quando viene la notte hai nervi tesi non puoi continuare così e poi invece di andare a letto quando hai finito di lavorare corri al picnic di Sulzer Park o vai al Dorado a Coney Island e la mattina dopo quando torni qui sei sfinita non c'era nessun carro funebre è stato solo un incubo causato da troppa ragosta lei sorrisetebolmente è l'uomo del camposanto è soltanto un individuo comune dall'aria malsana come è vero che mi chiamo Tessi Rardon le giuro signor Scott che la faccia dell'uomo lì nel camposanto è quella dell'uomo che guidava il carro funebre e con questo feci io è un mestiere come un altro allora lei crede che abbia visto il carro disse io diplomaticamente se lo hai visto davvero non è improbabile che fosse proprio quel uomo a guidarlo non c'è nulla di strano Tessi si alzò srotolò il fazzolettino profumato tolse un pezzetto di gomma da una cocca annodata e se lo mise in bocca poi infilò i guanti mi porse la mano con un franco buonanotte signor Scott se ne andò la mattina seguente Thomas il fattorino mi portò l'herald e qualche notizia la chiesa vicina era stata venduta ne ringraziai il cielo non perché essendo cattolico provassi avversione per quella congregazione ma perché i miei nervi erano stati messi a dura prova da un particolare le cui parole eccheggiavano nella chiesa come se fosse stata la mia casa e insisteva sulla R con una ostinazione nasale che mi rivoltava c'era poi un diavolo in forma umana un organista che storpiava alcuni dei grandiosi vecchi inni in un'interpretazione tutta sua e io avrei chiesto volentieri la testa di un individuo capace di suonare canti religiosi con certi accordi quali si sentono soltanto nei quartetti di dilettanti giovanissimi penso che il pastore fosse un bravo uomo ma quando urlava il signor disse a mosè il signor è dio degli eserciti il signor è il suo nome la mia collera si accendermi e io ti ucciderò con il mio brando mi chiedevo quanti secoli di purgatorio avrebbe dovuto scontare per quel peccato e chi l'ha comprata? domandai a Thomas nessuno che io conosca, signore dicono che ci aveva messo sugli occhi quel signore che è già padrone degli appartamenti Hamilton magari ci farà degli altri studi mi tirassi verso la finestra il giovane dalla faccia malsana stava fermo accanto al cancello del campo santo mi bastò guardarlo per sentirmi invadere di nuovo da una ripugnanza schiacciante a proposito Thomas dissi chi è quel tipo laggiù? Thomas tirò su con il naso quel verme là, signore? è il guardiano notturno della chiesa mi ha già fatto perdere la pazienza sta seduto tutta la notte su quei gradini con quell'alia insolente l'ho anche preso a pugni mi scusi, signore va avanti, Thomas una sera tornavo a casa con Henry, l'altro fattorino inglese e lo vedo lì seduto sui gradini c'erano con noi Molly e Jeanne, le ragazze del servizio ristoro e lui ci guarda con un'aria così insolente che io mi avvicino e dico cos'hai da guardare? l'umacone? chiedo scusa, signore, ma ho detto proprio così lui non dice niente io vieni fuori e ti piglio a pugni sul grugno poi apri il cancello e dentro ma lui non dice niente mi guarda con l'aria insolente e basta allora gli ho dato un pugno ma era così freddo e molle che mi ha fatto schifo toccarlo e allora lui cos'ha fatto? domandai incuriosito lui? niente e tu, Thomas? il giovanotto arrossì impazzato e sorrise signor Scott, non sono un vigliacco ero nel quinto lanceri, signore, trombettiere a Tell el Kebir e sono stato anche ferito vicino ai pozzi non vorrai farmi credere che sei scappato sì, signore sono scappato perché? è quello che mi piacerebbe sapere, signore ho afferrato molli e sono scappato via e anche gli altri erano spaventati quanto me ma perché erano spaventati? per qualche istante Thomas rifiutò di rispondere ormai la mia curiosità si era destata e insistetti tre anni di soggiorno in America non avevano modificato il suo accento Cookney ma gli avevano estillato la paura tipicamente americana del ridicolo lei non mi crederà, signor Scott sì, ti crederò riderà di me, signore? ma no Thomas esitò ecco, signore giuro davanti a Dio che quando l'ho abbrancato lui mi ha preso per i polsi, signore e quando gli ho stretto quel pugno molle e ammuffito un suo dito si è staccato e mi è rimasto in mano l'orrore dipinto sul volto di Thomas doveva riflettersi anche sul mio viso perché il giovanotto aggiunse è orribile e adesso quando lo vedo gli giro a largo mi dà la nausea quando Thomas se ne fu andato mi accostai alla finestra l'uomo stava accanto alla cancellata della chiesa con entrambe le mani sulle sbarre mi affrettai però a ritirarmi nauseato e inorridito perché vidi che gli mancava il medio della mano destra alle nove arrivò Tessi e subito sparì dietro il paravento con un caio buongiorno signor Scott quando fu ricomparsa e si fu messa in posa sulla pedana cominciai una tela nuova con sua grande gioia rimase in silenzio finché io continuai a disegnare ma non appena lo spricchiolio del carboncino cessò e io preso il fissativo lei cominciò a chiacchierare oh mi sono divertita tanto ieri sera siamo andate da Tony Pastor noi chi? domandai oh Magis la modella del signor White e Rosetta McCormick la chiamiamo Rosetta perché ha quei bei capelli rossi che piacciono tanto a voi artisti e Lizzy Bork spruzzai un po' di fissativo sulla tela e dissi beh continua abbiamo visto Kelly e Baby Burns la ballerina e tutto il resto ho preso una cotta allora sei venuta meno alla promessa che mi hai fatto Tessy rise e scrollò la testa è il fratello di Lizzy Bork ed è un vero gentiluomo mi sentì in dovere di darle qualche consiglio paterno a proposito delle cotte e lei ascoltò con un sorriso fulgido oh so cavarmela con una cotta disse esaminando il suo chewing gum ma Ed è diverso Lizzy è la mia migliore amica poi raccontò che Ed era tornato dal calzificio di Lowell nel Massachusetts e aveva trovato che lei e Lizzy erano molto cresciute e che lui era un giovanotto molto compito e non aveva esitato a spendere un dollaro in gelati e ostriche per festeggiare la sua assunzione come commesso al reparto lanerie di Macis prima che Tessy avesse finito io cominciai a dipingere e lei si mise in posa sorridendo e cinguettando come un passerotto a mezzogiorno lo studio era già a buon punto e Tessy venne a guardarlo questo è meglio disse anch'io la pensavo così pranzai con la consolante convinzione che tutto andasse a dovere Tessy dispose il suo pranzo sul tavolo da disegno di fronte a me bevemmo il chiaretto dalla stessa bottiglia e accendemmo le sigarette con lo stesso fiammifero ero molto attaccato a Tessy l'avevo vista sbocciare in una donna snella ma squisitamente formata da quella bambina fragile e goffa che era stata aveva posato per me in quegli ultimi tre anni ed era la preferita tra tutte le mie modelle sarei rimasto molto turbato se fosse diventata dura come si dice in gergo ma non avevo mai notato alterazioni dei suoi modi e intuivo che fosse una ragazza a posto non discutevamo mai di morale né io intendevo farlo in parte perché non avevo una morale in parte perché sapevo che lei avrebbe fatto ciò che voleva qualunque cosa le dicessi speravo tuttavia che stessa alla larga dalle complicazioni perché le volevo bene e inoltre provavo il desiderio egoistico di conservare la migliore modella che avessi mai avuto sapevo che le cotte come le chiamava lei non avevano alcun significato per ragazze come tessi e che quel genere di cose in America non vanno come vanno a Parigi tuttavia poiché avevo vissuto con gli occhi aperti sapevo che un giorno o l'altro qualcuno l'avrebbe portata via in un modo o nell'altro e benché ritenessi che il matrimonio fosse un'assurdità speravo sinceramente che in tal caso sulla scena sarebbe apparso un prete sono cattolico quando ascolto la messa cantata sento che tutto è più lieto me compreso e quando mi confesso mi sento meglio un uomo che vive solo come me deve confessarsi con qualcuno e poi anche Silvia era cattolica e questo mi bastava ma stavo parlando di tessi e il discorso è diverso anche tessi era cattolica e molto più devota di me quindi tutto sommato avevo poco da temere per la mia graziosa modella fino a quando non si fosse innamorata ma poi sapevo che il destino avrebbe deciso il suo futuro e mi auguravo che la tenesse lontana da uomini come me e mettesse sulla sua strada soltanto giovani come Ed Burke e Jimmy McCormick che fosse benedetta tessi stava seduta soffiava cerchi di fumo verso il soffitto e faceva tintinnare il ghiaccio nel bicchiere sai piccola che anch'io ho fatto un sogno questa notte osservai qualche volta la chiamavo così piccola non avrà sognato quel uomo riserei esattamente un sogno simile al tuo solo assai peggiore ed era sciocco dirlo ma si sa che in genere i pittori hanno poco tatto devo essermi addormentato verso le dieci continuai e dopo un po' ho sognato di svegliarmi ho sentito così chiaramente le campane di mezzanotte il vento tra i rami degli alberi e il sibilo dei vapori nella baia che ancora adesso stento a credere che non fossi sveglio vedevo vagamente i lampioni mentre passavo perché devo dirti tessi che la cassa in cui giacevo sembrava caricata su un veicolo molleggiato che mi trascinava lungo una strada dopo un po' mi sono spazientito e ho cercato di muovermi ma la cassa era troppo stretta avevo le mani incrociate sul petto e non potevo alzarle ascoltavo e cercavo di gridare ma non avevo più voce sentivo lo scalpiccio dei cavalli attaccati al carro e persino il respiro del conducente poi ho avvertito un altro suono come di una finestra che si sollevasse sono riuscito a girare un po' la testa e ho scoperto che potevo vedere non soltanto attraverso il coperto di vetro della cassa ma anche attraverso le lastre di vetro sui lati del carro coperto ho visto delle case vuote e silenziose senza luce né vita eccettuata una in quella casa c'era una finestra aperta al primo piano e una figura bianca guardava sulla strada eri tu Tessi aveva distolto il viso da me e si era appoggiata e con il gomito sulla tavola ho potuto vedere la tua faccia ripresi e mi è parso che fossi molto triste poi siamo passati oltre l'abbiamo svoltato in un vicolo nero stretto quindi i cavalli si sono fermati ho atteso a lungo chiudendo gli occhi per la paura e per l'impazienza ma tutto intorno c'era un silenzio di tomba dopo un intervallo che mi è sembrato di ore ho cominciato a sentirmi inquieto la sensazione che qualcuno fosse accanto a me mi ha indotto ad aprire gli occhi allora ho visto la faccia bianca del conducente del carro funebre che mi guardava attraverso il coperchio della vara un singhiozzo di tessi mi interruppe tremava come una foglia mi accorsi di essermi comportato come uno stupido e cercai di riparare al danno che avevo fatto su via tess dissi te l'ho raccontato soltanto per dimostrarti quale influenza può avere la tua storia sui sogni di un'altra persona non penserai che fossi davvero nella vara vero? perché trebbi così? non capisci che il tuo sogno e la mia irragionevole antipatia per quell'innocuo guardiano della chiesa hanno messo in moto il mio cervello non appena mi sono addormentato lei appoggiò la testa sulle brazza incrociate e si ingozzò come se il cuore le si stesse spezzando era stato davvero un asino ma ormai stavo per battere anche quel primato mi avvicinai e la cinsi con le brazza perdonami tessi cara dissi non avevo il diritto di spaventarti con queste sciocchezze sei una ragazza troppo sensata sei troppo una buona cattolica per credere ai sogni la sua mano si strinse alla mia mi posò la testa sulla spalla ma tremava ancora la calzai consolandola andiamo tess apri gli occhi e sorridi i suoi occhi si aprirono con un movimento languido e incontrarono i miei ma la sua espressione era così strana che mi affrettai a rassicurarla ancora è assurdo tessi non penserai che possa succederti qualcosa di male no fece lei ma le sue labbra scarlatte e tremavano e allora che cosa c'è hai paura sì ma non per me per me allora domandai gaiamente per lei mormorò tessi con un filo di voce che si udiva appena io io le voglio bene stavo per mettermi a ridere ma quando compresi mi sentii scosso rimasi immobile come se fossi impietrito avevo commesso l'idiozia peggiore nell'attimo che trascorse tra la sua risposta la mia reazione pensai a mille modi per ribattere quell'innocente confessione avrei potuto passarci sopra con una risata avrei potuto fraintenderla e rassicurarla circa la mia salute avrei potuto semplicemente farle osservare che era impossibile che mi amasse ma la mia reazione fu più rapida dei miei pensieri e posso pensarci ora che è troppo tardi perché le avevo baciata sulla bocca quella sera feci la mia solita passeggiata a Washington Park riflettendo sugli avvenimenti di quel giorno ormai non c'era modo di uscirne e guardai in faccia il futuro non ero buono né molto scrupoloso ma non pensavo di ingannare me stesso o Tessi l'unica passione della mia vita giaceva sepolta nelle foreste assolate della Bretagna era sepolta per sempre la speranza gridava no per tre anni avevo ascoltato la voce della speranza e per tre anni avevo atteso di udire un passo davanti alla mia soglia Silvia aveva dimenticato no gridava la speranza ho detto che non ero buono è vero ma tuttavia non ero proprio un cattivo d'opera buffa avevo condotto una vita spensierata cogliendo il piacere che mi soffriva deplorando e talvolta rimpiangendone amaramente le conseguenze in una sola cosa a parte la pittura avevo fatto sul serio e si trattava di qualcosa che era nascosto e non perduto nelle foreste bretoni ormai era troppo tardi ormai era troppo tardi per pentirmi di quanto era accaduto quel giorno di qualunque cosa si fosse trattato pietà o una tenerezza improvvisa per quell'angoscia o il più brutale istinto della vanità gratificata ormai era lo stesso e se non volevo ferire un cuore innocente mi rimaneva una sola via da seguire il fuoco la forza la profondità passionale di un amore che non avevo mai sospettato nonostante la mia presunta esperienza del mondo non mi lasciava altre alternative o ricambiare o mandare via tessi non so se fosse perché ho sempre tanta paura di fare soffrire gli altri o perché in mezzo a qualcosa di puritano ma mi astenevo dal negare la responsabilità di quel bacio dato senza pensare anzi non avevo avuto neppure il tempo di farlo prima che lei spalancasse le porte del suo cuore e ne lasciasse prorompere la marea dei sentimenti qualcun altro che fa abitualmente il proprio dovere ricava una cupa soddisfazione nel rendere infelice se stesso e gli altri forse avrebbe resistito io no non avevo osato quando la tempesta si fu placata le dissi che forse avrebbe fatto meglio ad amare Ed Bork e a portare al dito una fede d'oro ma lei non volle ascoltarmi e io pensai che se proprio aveva deciso di amare qualcuno che non poteva sposare era meglio che quel qualcuno fossi io io se non altro potevo trattarla con affetto intelligente e quando si fosse stancata della sua infatuazione non avrebbe avuto di che soffrire su questo punto ero deciso anche se sapevo che sarebbe stato difficile ricordavo le conclusioni abituali delle relazioni platoniche e quanto mi disgustava sentirne parlare sapevo che mi assumevo un compito molto difficile per un uomo di pochi scrupoli come me e avevo paura del futuro ma neppure per un istante pensai che Tessy non fosse al sicuro con me se fosse stata un'altra non mi sarai lasciato prendere dagli scrupoli ma non pensavo di sacrificare Tessy come invece avrei sacrificato una donna di mondo guardai apertamente in faccia il futuro e vidi le numerose conclusioni probabili di quella faccenda lei si sarebbe stancata o sarebbe diventata tanto infelice che io avrei dovuto scegliere tra lo sposarla e l'andarmene se l'avessi sposata saremmo stati infelici io con una moglie non adatta a me e lei con un marito non adatto a qualsiasi donna il mio passato non era tale da darmi il diritto di sposarmi se me ne fosse andato lei si sarebbe ammalata sarebbe guarita e avrebbe sposato un Ed Bork oppure avrebbe fatto qualche sciocchezza d'altra parte se si fosse stancata di me si sarebbe trovata davanti a una vita intera con un Ed Bork le fedi nuziali e magari due gemelli e un appartamento ad Harlem e il cielo solo sa che altro mentre camminavo tra gli alberi accanto a Washington Hersch decisi che Tessy avrebbe comunque trovato in me un amico fidato e che il futuro sarebbe stato quel che sarebbe stato poi tornai a casa e indossai l'abito da sera perché il bigliettino javemente profumato sulla mia toilette diceva vieni in Tessy all'uscita degli artisti alle undici ed era firmato Edith Carmichael Metropolitan Theater 19 giugno 1800 quella sera cenai o meglio quella sera io e la signorina Carmichael cenammo da Solaris e l'alba cominciava appena a indorare la croce sul Memorial Church quando arrivai a Washington Square dopo aver lasciato Edith al Brunswick non c'era anima viva nel parco mentre passavo tra gli alberi e prendevo il viottolo che porta la statua di Garibaldi agli appartamenti Hamilton ma quando passai davanti al campo santo vidi una figura seduta sui gradini di pietra nonostante tutto era brividì alla vista di quella faccia bianca e gonfia e mi affrettai allora lui disse qualcosa che poteva essere rivolto a me o che poteva essere un mormorio ma all'improvviso mi sentì invadere da una furia fiammeggiante al pensiero che un simile essere mi rivolgesse la parola per un attimo provai l'impulso di girare su me stesso e di percuoterlo sul capo con il bastone invece continuai a camminare entrai nell'edificio e salì nel mio appartamento per qualche tempo mi agitai nel letto cercando di togliermi dalle orecchie il suono della sua voce ma senza riuscirvi mi riempiva la testa quel suono mormorante come il denso fumo oleoso di una caldaia in cui fonde del grasso o l'odore della potredine e mentre mi agitavo la voce nelle mie orecchie sembrava più distinta e io cominciai a comprendere le parole che quell'essere aveva pronunciato venivano a me lentamente come se le avessi dimenticate e finalmente riuscì a ricavarne un senso dicevano hai trovato il segno giallo hai trovato il segno giallo ero furibondo che cosa intendeva dire poi maledicendolo mi rotolai nel letto e mi addormentai ma quando più tardi mi svegliai ero pallido e sconvolto perché avevo fatto di nuovo il sogno della notte precedente e mi turbava più di quanto volessi ammettere mi vestì e scesi nello studio tessi sedeva davanti alla finestra ma quando entrai si alzò e mi cinse il collo con le braccia per un bacio innocente era così dolce e graziosa che la baciai di nuovo poi sedetti davanti al cavalletto salve dov'è lo studio che ho incominciato ieri domandai tessi sembra intimidita ma non rispose cominciai a cercare tra i mucchi di tele dicendo presto tess preparati dobbiamo approfittare della luce del mattino quando finalmente rinunciai a cercare tra le altre tele e mi voltai per scrutare la stanza alla ricerca del bozzo mancante notai che tessi era ritta accanto al paravento ancora vestita che succede chiesi non ti senti bene mi sento bene allora sbrigati volte posi come come ho sempre posato allora compresi c'era una complicazione nuova naturalmente avevo perduto la migliore modella di nudo che avessi mai visto fissai tessi era scarlata in viso ahimè ahimè avevamo mangiato il frutto dell'albero della conoscenza e l'eden e l'innocenza erano sogni del passato per lei voglio dire credo che lei si fosse accorta del mio disappunto perché disse poserò se vuoi la bozzo è dietro il paravento ce l'ho messo io no dissi cominceremo qualcosa di nuovo andai nel guardaroba e prese un costume moresco luccicante di lustrini era autentico e tessi se lo portò dietro il paravento incantata quando ne uscì rimasi sbalordito i lunghi capelli neri erano annodati sulla fronte con un cerchietto di turchesi e ricadevano in rizzoli sulla cintura scintillante ai piedi portava le pantofoline a punta ricamate e la gonna del costume curiosamente intessuta di arabeschi d'argento le scendeva alle caviglie il corsetto di un azzurro carico metallico ricamato d'argento e il corto bolero moresco costellato di turchesi le stavano splendidamente mi si accostò e levò il viso sorridendo mi misi una mano in tasca ne tolsi una catena d'oro cui era appesa una croce e gliela misi al collo facendogliela passare sul capo è tua tessi mia belbetò tua e adesso va a posare allora con un sorriso radioso lei corse dietro il paravento e subito tornò con una scatoletta sulla quale era scritto il mio nome avevo intenzione di dartela prima di tornare a casa stasera mi disse ma non voglio più aspettare aprì la scatoletta sulla vatta rosa stava una spilla d'onice nero sulla quale era intarsiato in oro un curioso simbolo o forse una lettera non era arabo né cinese e come scoprì in seguito non apparteneva a una scrittura umana è tutto quello che potevo darti per ricordo disse tessi timidamente ero irritato ma le dissi che l'avrei tenuta cara e promisi di portarla sempre tessi me la puntò sulla giacca sotto al bavero e sciocca tess comprarmi un oggetto così bello le dissi non l'ho comprato rise lei e dove l'hai preso allora mi disse che l'aveva trovato un giorno mentre usciva dall'acquarium nella batteri aveva messo un annuncio sul giornale aveva guardato le inserzioni degli oggetti smarriti ma alla fine aveva rinunciato a trovarne il proprietario è stato l'inverno scorso disse proprio il giorno in cui ho fatto per la prima volta quell'orribile sogno del carro funebre ricordai il mio sogno della notte precedente ma non dissi nulla pochi attimi dopo il carboncino volava su una tela nuova ed essi stava immobile sulla pedana di posa il giorno seguente fu disastroso per me mentre spostavo una tela incorneciata da un cavalletto all'altro scivolai sul pavimento lucido e caddi pesantemente sui polsi mi feci molto male tanto che era inutile tentare di impugnare un pennello e fui costretto a vagabondare per lo studio guardando male i disegni e gli schizzi incompiuti fino a quando cedetti alla disperazione e mi sedetti a fumare e a far girare rabbiosamente i pollici una pioggia insistente batteva contro le finestre e tambureggiava sul tetto della chiesa provocandomi una crisi di nervi con il suo tichettio interminabile tessi sedeva accanto alla finestra e ricamava di tanto in tanto alzava il capo e mi guardava con innocente compassione così che finii per vergognarmi della mia irritazione e mi guardai intorno per cercare qualcosa da fare avevo letto tutte le riviste e tutti i libri della biblioteca ma tanto per fare qualcosa mi avvicinai agli scaffali e ne apri gli sportelli con il gomito riconoscevo ogni volume dal colore li esaminai tutti passando lentamente attorno alla libreria e fischettando per risollevarmi il morale stavo per voltarmi e per andare in sala da pranzo quando il mio sguardo cadde su un volume rilegato in giallo in un angolo del ripiano più alto dell'ultimo scaffale non lo ricordavo e non riuscivo a decifrare la palle da scritta sul dorso andai nel fumare e chiamai Tessi lei arrivò dallo studio e si arrampicò per guardare il libro che cos'è domandai il re in giallo rimaci sballordito chi l'aveva messo lì com'era finito in casa mia molto tempo prima avevo deciso che non avrei mai aperto quel libro e nulla al mondo avrebbe potuto indurmi ad acquistarlo temendo che la curiosità mi spingesse ad aprirlo non lo avevo mai neppure guardato nelle librerie ma se avessi provato la tentazione di leggerlo la sorte tragica spaventosa del giovane Castegne che avevo conosciuto mi avrebbe comunque impedito di esplorare quelle pagine perverse avevo sempre rifiutato di ascoltarne qualsiasi riassunto e per la verità nessuno si era mai azzardato a discuterne a voce alta la seconda parte perciò non conoscevo assolutamente ciò che potevano rivelare le sue pagine fissai quella rilegatura ad un giallo venenoso come se fosse stata un serpente non toccarlo tessi dissi scendi naturalmente la mia esortazione bastò ad estare la sua curiosità e prima che potessi impedirglielo prese il libro e ridendo andò a passo di danza nello studio con un sorriso di sfida e io la seguì un po' spazientito tessi gridai entrando nella biblioteca ascoltami dico sul serio metti via quel libro non voglio che tu lo apra la biblioteca era deserta passai nei due salotti poi nelle camere da letto nel bagno in cucina e finalmente tornai in biblioteca e incominciai una ricerca sistematica tessi si era nascosta così bene che solo mezz'ora dopo la scovai accovacciata bianca e silenziosa accanto alla finestra a grate del magazzino al piano superiore compresi fin dalla prima occhiata che era stata punita della sua leggerezza il re in giallo giaceva ai suoi piedi ma il libro era aperto alla seconda parte guardai tessi e vidi che era troppo tardi aveva letto il re in giallo allora la presi per mano e la condussi nello studio pareva astordita e quando le dissi di stendersi sul divano ne obbedì senza dire una parola dopo un po' chiuse gli occhi e il suo respiro divenne regolare e profondo ma non riuscì a capire se dormisse oppure no rimasi seduto a lungo accanto a lei e tessi non si mosse ne parlò alla fine mi alzai andai nel magazzino che non veniva mai usato e presi il libro rilegato in giallo con la mano meno dolorante sembrava pesante come il piombo ma lo portai nello studio sedetti sul tappeto accanto al divano poi lo aprì e lo lessi dal principio alla fine quindi indebolito e sopraffatto dalle emozioni lasciai cadere il volume e mi appoggiai stancamente al divano tessi apri gli occhi e mi guardò stavamo già parlando da diverso tempo con voce monotona quando mi resi conto che stavamo discutendo del re in giallo oh il peccato di scrivere tali parole parole limpide come cristallo limpide e musicali come fonti corgoglianti e che scintillano e risplendono come diamanti avvelenati dei medici oh la perversità la dannazione disperata di un'anima che poteva affascinare e paralizzare gli esseri umani con tali parole parole comprese ugualmente dal saggio e dall'ignorante parole più preziose dei gioielli più suadenti della musica celestiale più spaventose della morte stessa continuammo a parlare di mentiche delle ombre che si addensavano e lì mi implorò di gettar via la spilla da onice nero bizzarramente ornata di quello che ormai lo sapevamo era il segno giallo non saprò mai perché rifiutai benché persino adesso qui nella mia camera da letto mentre scrivo questa confessione sarei lieto di sapere che cosa mi impedì di strapparmi dal petto il segno giallo e di gettarlo nel fuoco sono certo che volevo farlo ma Tessi mi supplicò in vano cadde la notte e le ore si trascinarono ma noi continuammo a mormorare del re e della maschera pallida e mezzanotte suonò dai campanelli della città avvolta nella nebbia parlammo di astro e di cazzilda mentre fuori la nebbia ondeggiava contro i vetri scuri delle finestre come le ondate di nuvole ondeggiano e si infrangono sulla spiaggia di Ali la casa era immersa nel silenzio che neppure un suono turbava salendo dalle strade nebbiose Tessi giaceva tra i cuscini e il suo volto era una chiazza nera nell'oscurità ma le sue mani erano strette alle mie e io sapevo che conosceva e leggeva i miei pensieri come io leggevo i suoi perché avevamo compreso il mistero dell'eladì e il fantasma della verità era stato esorcizzato poi mentre rispondevamo l'uno all'altra silenziosamente rapidamente pensiero dopo pensiero le ombre si agitarono nell'oscurità attorno a noi e dalle strade lontane ci dunse un suono si avvicinava si avvicinava il cupo scricchiolio delle ruote ed era sempre più vicino e poi cessò proprio davanti alla porta io mi trascinai alla finestra e vidi un carro funebre impennacchiato di nero il portone di sotto si aprì e si chiuse io mi trascinai tremando alla porta e la sbarrai ma sapevo che nessuna serratura nessun catenaccio poteva impedire l'ingresso all'essere che veniva per il segno giallo ora lo udivo a muoversi piano nel corridoio adesso era alla porta e i catenacci si imputridivano al suo tocco adesso era entrato con gli occhi che mi schizzavano dalla testa scrutai nelle tenebre ma quando egli entrò nella stanza non lo vidi fu solo quando sentì avvilupparmi nella sua stretta molle e fredda che gridai e mi dibattei con furia mortale ma le mie mani erano impotenti e lui mi strappò dalla giacca la spilladonice e mi colpì in pieno viso poi mentre cadevo udì il grido sommesso di tessi e la sua anima volò a dio mentre cadevo mi augurai di poterla seguire perché sapevo che il re in giallo aveva aperto il suo manto sbrindellato e ormai soltanto Cristo poteva salvarmi potrei dire altre cose ma non vedo di che utilità sarebbero per il mondo in quanto a me non posso avere né aiuto né speranza mentre sto qui disteso e scrivo indifferente al fatto di morire o di non morire prima di aver terminato vedo il dottore che raccoglie le sue polveri e le sue fiale rivolgendo al buon prete accanto a me un gesto che io ben comprendo saranno molto curiosi di conoscere questa tragedia quelli del mondo esterno che scrivono libri e stampano milioni di giornali ma io non scriverò più e il padre confessore sigillerà le mie ultime parole con il sigillo della santità dopo aver compiuto il suo sacro dovere quelli del mondo esterno possono mandare i loro uomini in case distrutte in focolari colpiti dalla morte nei loro giornali possono grondare sangue e lacrime ma con me le loro spie dovranno arrestarsi davanti al confessionale sanno che te sia morta e che io sto morendo sanno che gli abitanti di questo edificio destati da un urlo infernale si sono precipitati nella mia stanza e hanno trovato un vivo e due morti ma non sanno ciò che dirò ora non sanno ciò che ha detto il dottore quando ha additato un orribile mucchio di carne decomposta sul pavimento non ho una teoria né una spiegazione quel uomo deve essere morto da mesi sto morendo credo vorrei che il prete